Sto andando in biblioteca perché voglio vedere com'è la vita di quelli che studiano, voglio capire un attimino dove cazzo? Manco si trova, è quello il problema, poi ho chiesto a una ragazza ma dov'è la biblioteca? Fa qua, io te vabbè entro con la macchina, ma no ti conviene, si si può ma ti conviene parcheggiare fuori perché spesso passano i carabinieri, forse è quello il problema, c'è i video quelli della biblioteca sono persone alla regola Cavalli ora faccio un video come i vecchi tempi Cazzo qua in biblioteca, non si può urlare? Perché? Ah! Dai, non si può urlare in biblioteca? Dai, no, dai, facciamo biblioteca anche Laura Pinguozzi, amori tossici, a posto Allora, ogni tanto cercate di fare i seri, essere di cuore, venite a trovare le nonne Scopro che forse non c'è una via giusta per te, una d'uscita per me Comunque cavalli, mi sono rotto i coglioni di tutta sta prostituzione Ma come cazzo è? Adesso sto di andare a ritoccolare un altro, ma basta Vabbè adesso spingiamo, adesso vi faccio volare Sono rimasti pochi real nella mia generazione Sono venuto a tagliarmi i capelli Spingiamo No, amore, dai, l'amico mio Vai, vai a fare l'acconciatura lì Fai le station Oh, buono così Puoi fare le station alla bambina un po' Paggo io, vabbè, vabbè, andiamo